Salve, sono Piera Cipolla, una candidata al Consiglio Comunale di Como nella lista dell'Ulivo e al Consiglio di Circoscrizione di Lora nella lista Insieme per Lora. Ho deciso di impegnarmi da donna in politica per contribuire a migliorare la qualità della vita nella nostra bellissima città e perché Como sappia riacquistare quella progettualità che le dia slancio e le consenta di valorizzare le bellezze artistiche ed ambientali e le potenzialità umane di cui dispone. Spero vogliate sostenermi con il vostro voto. Grazie.